appassionati sportivi ed amanti dell'ippica buonasera e benvenuti all'ennesima trasmissione dove il cavallo è il protagonista assoluto No Problem Ippica come sempre entra nelle vostre case da oltre 10 anni e cerca di proporvi nel miglior modo possibile il mondo straordinario, il nostro sport è quello dell'ippica e quello del cavallo e come sempre noi abbiamo ospiti di rilievo del settore ippico di grande spessore era per la prima volta davanti le telecamere ma anche la prima volta che ha vinto una lista di race è un bravissimo fantino sardo perché ci tiene a sottolinearlo e parlo di Gian Pasquale Fois buonasera GP e benvenuto a No Problem Ippica grazie complimenti innanzitutto per la vittoria con Omaticaia nella lista di appunto il perrone e poi complimenti per quello che stai facendo ormai da tanti anni a Roma sì tanti anni possiamo dire bene un po' emozionato prima volta una trasmissione però No Problem Ippica è una trasmissione di casa quindi tra poco ti ambienterai sicuramente accanto a lui un altro personaggio per il quale fa piacere particolarmente presentarlo perché ci è venuto a trovare proprio da Milano è l'ideatore insieme ad Antonio Asdruboli dei siti vendopuletri.it e I love tarf e parlo di Alessandro Ferrari buonasera Alessandro e grazie di essere qui con noi ti ringrazio io noi ci eravamo già sentiti diverse volte avevi promesso di venire in diretta in trasmissione ci sei appunto proprio per testimoniare questa iniziativa per dare lo spessore di tutte le dimensioni bene grazie da un punto di vista fisico posso dare spessore grazie di essere qui con noi sicuramente con lui parleremo di tante cose del mondo dell'Ippica dall'altra parte dello studio Luigi Migliaccio buonasera Luigi buonasera Roando buonasera a tutti e accanto a lui con grande piacere vado a presentare questa volta non come veste di ospite ma come veste di opinionista quale è Riccardo Santoliquido buonasera Riccardo grazie Rolando buonasera a tutti a quando con veste di conduttore sentiamo il bisogno no 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 non è il mio ruolo no no tu hai iniziato come conduttore e sei un conduttore ora sei autore televisivo però da diverso tempo ma il tuo ruolo è quello di conduttore e allora partiamo subito andandoci a vedere il sormario Rolando ai listed a Roma in primo piano gli imbattuti Omaticaia e Pabloschi a Milano vincono Virtual Game e Clorofilla le emozioni dei derby inglese e francese nel premio della Repubblica settimo sigillo per Orleans OM fine settimana con luci puntate sul Gran Premio Milano il derby winner 2013 beats the nerves sogna il bis Danimarca al convegno della Copenhagen Cup un manipolo di italiani all'assalto bene come sempre una trasmissione ricca di argomenti per quanto riguarda il weekend che abbiamo vissuto e quello che andremo ad affrontare ma come sempre apriamo la nostra trasmissione con la cartolina che ci fa Luigi Migliaccio sulla situazione politica perché ricordiamo sempre che ancora c'è una crisi ippica che attanaglia il nostro settore gravissima ma sinceramente non so quanto si potrà ancora andare avanti perché c'è veramente grande problematiche da parte di tutti quanti gli operatori ippici Luigi, allora è accaduto qualcosa di particolare questa settimana oltre agli eventi ippici che abbiamo vissuto con tanto pubblico, tanti spettatori negli ipodromi beh insomma la notizia più fresca è anche quella un po' più positiva sulla carta il comunicato che il Ministero delle Politiche Agricoli e Alimentari e Forestali ha emesso questo oggi oggi ricordiamo noi registriamo il giovedì dove si parla di trovati oltre 32 milioni di euro subito per i pagamenti dei debiti del 2012 e di procedure semplificate c'è una dichiarazione del Ministro la possiamo dire oggi possiamo dare le prime risposte agli operatori del mondo dell'Ippica così fortemente colpito da una crisi che va oltre quella economico-finanziaria abbiamo ottenuto oltre 32 milioni di euro per i pagamenti dei debiti del 2012 che verranno liquidati il prima possibile nei giorni scorsi poi ho firmato un decreto per la semplificazione delle procedure di pagamento che ora è alla controfirma del Ministro dell'Economia e che consente di rendere più rapido l'interburocratico abbiamo il comunicato anche Luigi nel crawl che va in visione il problema è proprio questa frase qua come al solito perché c'è sempre un problema e questa è qui che è alla controfirma il Ministro dell'Economia ora dieci giorni fa una settimana fa c'era stata una dichiarazione del sottosegretario con delle caigiochi Alberto Giorgetti che aveva detto ma però la procedura così non va bene non se ne parla non c'è bisogno di un intervento ad hoc speriamo che quella dichiarazione sia superata da questa e che finalmente arrivi anche l'ok del Ministro dell'Economia perché poi è inutile girarci intorno noi dobbiamo sempre fare i conti con chi tiene i cordoni della borsa per cui mi sembra questo l'argomento più interessante urbi e torbi dal punto di vista politico-ippico il resto per questa settimana lo lascerei un attimo in secondo piano bene, allora facciamo subito intervenire Alessandro Ferrario che è un manager lavora da tanti anni nel mondo io direi proprio del cavallo perché ha lavorato tanti anni con Cavallo Magazine ha collaborato con Bruno Grizzetti ha avuto questa idea di appunto entrare nel mondo del web con due siti appunto ventobulletry.it e itarf.it ecco ma chi ve l'ha fatto fare? no, no, scherzo Alessandro intanto ce l'ha fatto fare il 2011 che era un anno migliore del 2012 sicuramente ce l'ha fatto fare la passione senza la quale si trova anche di meglio su questo sono d'accordo e poi ce l'ha fatto fare il fatto che ha funzionato cioè già nel 2011 abbiamo raccolto 320 cavalli che poi abbiamo bissato l'anno scorso sto parlando di vendopulledri itarf è riuscito ad arrivare a 120 l'anno scorso in realtà l'ha fatto è partito solo l'anno scorso noi non vendiamo i cavalli noi facciamo informazione pubblicando le schede genealogiche e su mandato degli allevatori poi dopo la trattativa l'eventuale vendita avviene tra allevatore e l'eventuale compratore se dopo tre anni siamo ancora vivi ci abbiamo fatto un SRL è perché evidentemente l'idea in sé funziona date anche informazioni sul campo dei partenti adesso state ampliando anche l'informazione per quanto riguarda l'ippica diciamo ordinaria certo allora io che nasco giornalista questo mi fa molto piacere ci aiuta molto bene Liliana Pennati Salvio Cervone ci fa dei commenti nostro carissimo amico che salutiamo con piacere commenti con tutta la sua simpatia la sua dirompenza dopodiché io monto dei video sull'audio di queste telefonate che fa Liliana che faccio io dove i protagonisti raccontano i fatti e le loro storie poi c'è una parte invece prettamente scritta questo per adesso è limitato al mondo del trotto stiamo cercando di implementarlo anche sul sito del galoppo che è a itarf.it compatibilmente con le risorse noi non possiamo che ringraziare i nostri allevatori che ci hanno sempre trattato bene hanno sempre onorato i loro impegni se arrivano questi soldi del ministro però in questo momento qua è ovvio che è basilare è basilare ed è anche morale nel senso che questo ambiente ha bisogno di un'iniezione per credere un po' anche nel futuro perché la vera povertà è quando ti tolgono il futuro non è quando ti tolgono i soldi come vi state relazionando al discorso del calo delle nascite nel senso che sappiamo benissimo che quest'anno le nascite soprattutto le registrazioni più che le nascite sono praticamente ai minimi termini ecco temete un po' che possa in qualche modo danneggiare la vostra iniziativa questa cosa oppure voi dite noi abbiamo quelli buoni per cui quelli ce li abbiamo comunque no no ti rispondo con piacere allora intanto noi non l'abbiamo ancora sentito perché il nostro core business sta sugli yearlings per cui certo lo sentirete casomai l'anno prossimo lo sentiremo casomai l'anno prossimo io non so il nostro cliente numericamente ma sotto molti aspetti importanti che abbiamo che è il grifone l'anno scorso ci ha dato 130 puledri da rappresentare 100 di trotto e 30 di galoppo quest'anno siamo sempre su una trentina di galoppo peraltro molto richiesti grazie anche all'esplorato di red rocks e su 90 di trotto quindi sostanzialmente sono gli stessi numeri io penso che più o meno andremo a finire ancora su quei numeri poi ti dirò io mi auguro che però non tutto quello che succede mi dà ragione si tagli sul basso e noi difficilmente rappresentiamo il cavallo di andare sulla qualità esatto cioè difficilmente noi rappresentiamo il cavallo che è stato fatto con la monta gratuita perché allora uno neanche ci spende i soldi dell'inserzione che comunque sono una cifra irrisoria rispetto a tutto il costo che ha a portare avanti il cavallo però se quella è la cultura forse non si sposa con noi per cui se mi tengono la parte superiore secondo me si può lavorare molto di più anche sull'aspetto qualitativo e accendere di più i riflettori su quei cavalli che meritano di essere visti adesso per esempio abbiamo appena caricato sul sito di Trotto cioè su vendopuredi.it la figlia di Iceland F Varen per Iceland F cioè due generogia regalo eh sì assolutamente comunque quello che c'è la data Alessandra Vigliani cioè la dottoressa per antonomasia e anche questo mi fa molto piacere quello che stai testimoniando tu Alessandro è che c'è ancora un mercato c'è gente ancora appassionata c'è ancora gente che lavora attorno alla filiera Ippica perché ricordiamoci che l'Ippica non è solamente la corsa è la conclusione la corsa c'è tutto il lavoro dietro dal puledro dal mantenimento dal puledro dalla crescita no quindi ancora c'è questa voglia di questo sport appassionato c'è senza altro quando gli chiudono l'ippodromo non lo aiutano perché io per esempio i nostri maggiori utenti erano Napoli Napoli ti confesso che quest'anno è stata superata da Milano nel 2011 avevamo numeri migliori del 2012 quest'anno li abbiamo recuperati siamo andati leggermente sopra il 2011 ma anche perché abbiamo inserito i tabelloni partenti abbiamo inserito per cui abbiamo messo più contenuti ha detto una giustissima considerazione il fatto degli ippodromi ricordiamo sempre che i quattro ippodromi chiusi al momento iniziando da Padova che ormai sono due anni passando poi per l'ippodromo di Agnano poi Roma Tor di Valle e San Silo Trotto è una cosa clamorosa cioè tutta la parte lo scheletro del Trotto chiuso tra parentesi Tor di Valle ha una situazione drammatica in questo momento 180 animali fra cavalli cani e gatti che sono lì randaggi l'ippodromo è veramente abbandonato e speriamo che si risolva presto questa situazione il comune è molto vicino Alessandro Cochi ha fatto altri interventi noi cercheremo con la nostra trasmissione di far sapere quello che accadrà anche per i dipendenti 51 dipendenti l'ippodromo di Capannella che non prende ancora il via con i lavori ci sono tante cose vogliamo dare anche una notizia a piacere insomma il 29 giugno riapre Montecatini esatto infatti l'abbiamo messa anche nelle news e questo mi sembra insomma almeno un segnale esatto quindi qualche notizia buona c'è infatti ho nominato solo 4 ipodromi chiusi Luigi di Trotto Montecatini non l'ho inserito perché fortunatamente riapre quindi bisogna che il ministro oltre a questi soldi faccia molta attenzione alla situazione il Mipaf dia subito queste giornate se ha voglia di far fare l'ippodromo del Trotto alle Capannelle per far partire questi benedetti lavori perché logicamente Torino non può assorbire tutti i gran premi perché sappiamo che poi il 29 ci sarà il gran premio dei 4 anni se non va derato l'Europa con il Filli però Torino non può fare tutti i gran premi quindi sarà diciamo difficile trovare una programmazione nel Trotto stiamo vivendo una situazione mai vissuta io credo no Alessandro? sì assolutamente però non vorrei neanche esautorare le responsabilità degli ipodromi cioè ipodromi che funzionano bene che lavorano e che producono spettacolo penso a Pisa penso a Cesena penso a Torino non chiudono non si è parlato di chiudono per carità hanno i loro problemi quello che non funziona più e questo non è detto che tutti i mali vengano per nuocere è l'ippica videogames cioè è l'ippica dove si manda in pista un cavallo per poi creare un vincente gli altri ipodromi hanno retto e secondo me questo noi dobbiamo raccontarlo e tenerlo presente raccontarlo come giornalisti tenerlo presente come ipici perché quella è una formula fermo restando tutto quello che se poi è ovvio che se non gli pagano il dovuto questi chiuderanno anche loro però allora questa parte logicamente chiamata situazione ipica situazione politica io vorrei fare intervenire con una battuta anche Gian Pasquale Foise e poi Riccardo Santoli Gian Pasquale Foise tu come stai vivendo da giovane Fantino questa situazione perché sappiamo che i Fantini anche voi non siete remunerati tu sei un Fantino poi che gira parecchi i podromi limitrofi appunto di provincia come Tagliacozzo con Ritonia quindi devi viaggiare e se non prendi soldi? se non prendi soldi per ora stiamo facendo tutto di tasca nostra quindi speriamo che si sblocchi qualcosa perché siamo arrivati un po' agli sgoccioli cioè non non riusciamo più andare avanti tu la mattina sei un Morne Gioche poi da tanti anni ormai hai montato per tantissimi allenatori se li vuoi citare perché fa piacere magari sono stai i tuoi maestri sì diciamo il primo in particolare il povero Soratirio Colella che adesso è venuto a mancare che ho fatto tantissime esperienze papà di Gianni Colella papà di Gianni anche con Gianni sempre ha avuto un bellissimo rapporto e poi a lungo andare Bucatella Ivano Salvatore Saggiomo poi la scudiera che ci ha lavorato che ci lavora ancora adesso Vincenzo Fazio diciamo scudiera Illuminati e anche altri allenatori che mi hanno dato sempre fiducia quindi alle capanelle ancora ci sono bravi allenatori ci sta tanta gente che lavora dalla mattina presto come voi Fantini ma anche come personale diciamo sì 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 ancora per ora diciamo sì speriamo che non finisca speriamo che si vada solo a migliorare però il momento è critico è drammatico quindi è una situazione anche per voi molto critica Riccardo portami a passare il guado e iniziare con la parte tecnica quindi una chiosa da parte tua su questo dibattito che abbiamo fatto molto open direi perché avendo anche Alessandro Ferrario che è un bravo giornalista ma è un imprenditore perché fare questi siti in questo momento e cercare di portare la comunicazione intorno al nostro mondo vendendo cavalli non è facile no Riccardo? non è facile però la loro idea è stata molto intelligente a livello di marketing hanno preso un buco di mercato un voto di mercato sono stati i primi a pensarlo quindi a livello di marketing se un mercato vale 100 e ci sono 100 competitors ogni competitor avrà uno o più di uno secondo la sua bravura se un mercato vale uno e c'è un solo operatore prende tutto il valore del mercato per cui loro in questo sono stati bravissimi è anche vero però che se il mercato fosse più ampio avrebbero più spazio e probabilmente avrebbero anche dei competitors in questo momento qui manca proprio questo cioè manca la voglia e la possibilità per chiunque di pensare all'ippica come ad un mercato dove fare impresa e questo che provoca quello che diceva prima lui cioè non solo una crisi ma la povertà più assoluta che è quella di non vedere in questo momento non un futuro ma proprio un futuro tra parentesi si minaccia una chiusura degli ipotomi dal 10 giugno qualora non si risolvesse la problematica appunto inerente ai soldi che devono arrivare alle varie categorie quindi staremo a vedere la prossima settimana speriamo di non fare una trasmissione sullo sciopero passiamo alla parte tecnica la parte tecnica ricchissima e possiamo andarci a vedere le immagini del Carlo Perrone la listed race vinta da Umaticaia cavalla imbattuta montata da Gian Pasquale Fois Gian Pasquale ti abbiamo visto festante a 200 metri dal traguardo proprio hai lasciato tranquilla la cavalla ha alzato il braccio salutavi tutti ma questa è una cavalla straordinaria eh sì è una cavalla che ha tante potenzialità e ancora io che la monto riesco a capire quanto può valere questa cavalla per quanto riguarda i tempi Riccardo non è che abbia fatto un tempo straordinario però come vediamo l'ha fatto con grande facilità allora questa cavalla ha vinto veramente lo vediamo dalle immagini in maniera veramente facile eh quando si vince così ci si chiede sempre eh quanto valevano gli avversari che sono stati battuti eh in realtà eh l'affermazione Gian Pasquale ce lo può confermare penso sia di valore assoluto a prescindere poi se si confermeranno o meno le cavalle che ha battuto perché ecco guardate qua lui già si volta e mancano 200 metri qua è un canter assoluto saluta la tribuna i parenti la mamma il papà tutti ha salutato tutti quanti vince uguale e segna 1.581 allora lo standard time erano 1100 metri in pista dritta per i puledri è all'incirca di 1.480 1.490 quindi lui ha un secondo sopra ma secondo me aveva ben più di un secondo in mano con la cavalla questo mi fa pensare tra l'altro valutando è la cavalla in battuta ha tre uscite tutte e tre in pista dritta se andiamo a vedere il riscontro cronometrico la migliore prestazione in assoluto come come speed è stata quella del debutto ma dal debutto in poi le altre due corse lei le ha vinte tutte e due in questo modo per cui a me fa pensare veramente ha una cavalla con tanta tanta qualità e tanto tanto speed la domanda per Gian Pasquale è secondo te che ne sei stato l'interprete può avere anche tenuta sulla distanza? io io penso di sì penso che sia una cavalla che potrebbe correre anche sulla distanza diciamo proprio più avanti la curva l'avete mai provata? sì la mattina quando abbiamo lavorato in pista terba specialmente in pista piccola la curva l'abbiamo tutta vale per forza e la galla ha sempre lavorato bene Gian Pasquale stavamo mettendo la premiazione chi vuole ringraziare in particolar modo fra proprietari allenatori un po' ringrazio a parte di tutto il team e poi molto di più Vincenzo che mi ha dato la possibilità di montare questa cavalla di vincere la mia prima lista non ti devi sbilanciare so che ci sono state molte offerte da parte di team stranieri per la vendita per l'acquisto della cavalla sì io ho saputo qualcosa però io mi limito solo a fare il fantino quelli sono problemi diciamo che riguardano lui prossimo obiettivo che avete o quantomeno che hai sentito l'allenatore vuole impegnare o maticare dal poco che ne abbiamo parlato che io so che dovremmo andare a Milano a fare il gruppo dei primi passi ah i primi passi quindi i primi passi a Milano che è se non vado errato fra due settimane sì fra due settimane e lì potrebbero incontrare forse Crissolo che è quel Red Rocks che ha vinto Lampugnano e a venire a venire che poi forse conta anche di più sarà un bel match sarà un bel match però non sono sicuro adesso non ho parlato con con Bruno uno sguardo all'estero Gian Pasquale già avete pensato ma per ora pensiamo solo a fare i primi passi poi in base a come correrà la cavalla si vedrà bene andiamo avanti e ci andiamo a vedere l'altra lista di race che a me è particolarmente a cuore perché è appunto intitolato Alberto Giubilo straordinario giornalista che tutti noi ancora apprezziamo per le sue telecronache non solo di Ippica ma anche di equitazione e qui c'è un altro cavallo imbattuto Pabloschi montato da Carlo Fiocchi che vince in maniera straordinaria con Giuseppe Di Chio allenatore è un Giuseppe Di Chio che abbiamo ascoltato anche nell'intervista post-corsa emozionatissimo e ha detto perché il cavallo era sudatissimo al tondino e ha detto che è un cavallo proprio nevrile in questa maniera no Riccardo che qualora non fosse sudato lui si sarebbe preoccupato allora beato lui nel senso si sono preoccupati però tutti quelli che l'hanno puntato perché quando hanno visto il tondino il cavallo non era bellissimo poi la pista ha dimostrato ecco probabilmente che è solo un fatto di carattere ma a livello fisico era perfetto lo vedete qui montato da Carlo Fiocchi Carletto però a differenza di quanto ha fatto Gian Pasquali ha dovuto usare la frusta l'ha messo sotto legno ha spinto fino in fondo è vero che vince anche lui a distacco però il cavallo segnando circa quattro decimi meno della femmina di Omaticaia è sembrato quasi al limite nel senso è sembrato rispetto alla femmina avere di meno in mano come progresso per cui devo dirti anche lui cioè imbattuto quindi per carità tanto di cappello però nel match a distanza io preferirei comunque Omaticaia la faccio di una qualità migliore e il suggerimento se posso è quello di evitarlo lo scontro a Milano nei primi passi e di andare a liste per le femmine con la curva ecco perché te l'avevo chiesto prima se l'avevate provato perché è lo stesso percorso che ha fatto tutti i paesi l'anno scorso che poi tanto ben si è comportata che è stata venduta all'estero dopo la listed e ha fatto bene in America Omaticaia a livello di riscontro con l'Americo non è distante da quella tutti i paesi ecco perché io suggerirei un tentativo un pochino più ambizioso che è quello di fare la listed solo con le femmine e poi magari naturalmente Gian Pascuale tu non sei d'accordo con Riccardo perché tu vai con la non metto tante opinioni faccio quello che mi dice lui e basta scherziamo però già il fatto che hai detto che la cavalla può fare anche la curva e si può impegnare su una distanza secondo me superiore e quello che dice Riccardo è da prendere con attenzione come consiglio forse bisognerebbe stabilire un attimo discorso terreno perché mi sembra che lì a Roma fosse pesante vedo che si alzavano l'ultima volta alla liste era un bel morbidone quasi pesante diciamo perché a Milano fra due settimane ormai il meteo ormai un incubo però al debutto ha vinto quasi sul duro a Roma ha fatto 57 scarso quindi ha fatto una cosa clamorosa al debutto per cui secondo me il terreno non le fa differenza parlavamo di Milano quindi ci andiamo a vedere una delle altre liste del programma la scorsa settimana il Merano il Merano che è stato vinto dal Botti di turno Virtual Game una bella vittoria forse un po' sudata ma mi sembra che Stefano Botti non ha bisogno di presentazioni o quantomeno la scudia di Oscuri perché logicamente presenta sempre al top dei cavalli al top e poi questo Virtual Game già l'ha dimostrato Alessandro si ha già dimostrato di essere un buon cavallo adesso in questo Merano che è una sorta di semi rinincita del derby anzi direi rinincita del derby dimostra di essere sicuramente competitivo anche a livelli più alti allora questa comunque a livello cronometrico vabbè erano solo 4 partenti non è stata una corsa piratissima non mi è sembrata una corsa di qualità eccelsa tra l'altro Virtual Game era quarto con grosse recriminazioni nel Mauro Sbariggia che aveva corso qua a Roma nella listed a 1600 metri era rimasto chiuso all'interno praticamente non aveva mai trovato l'azione la corsa vinta da Refuse Bobbin quindi poi ha trovato una rivincita in questa lista con soli 4 partenti però io voglio dire una cosa magari con un po' di polemica però simpatica è che Stefano Botti ogni corsa ha metà dei partenti ragazzi quindi metà dei partenti con tre scuderie diverse allora voglio dire dobbiamo dargli almeno 20 metri di penalità perché altrimenti a parte gli scherzi anche qui non facevano scuderia però Celticus ha fatto la sua corsa per carità secondo quello che è lo schema c'è avanti e pedalare corre in testa è calato è calato poi sul finale e ha approfittato dello schema di corsa virtual game che è compagno di allenamento non di scuderia quindi no questo io faccio sempre la valutazione dal punto di vista poi non solo tecnico della corsa ma anche dal punto di vista di quello che scommette dello scommettatore esatto passiamo intanto sì sì prego Alessandro continuo subito la parola perché andiamo a vedere il Nogara che confesso non è che poi me la ricordassi più di tanto e questo ha infilato un buco a fine di rigura in mezzo cioè bisogna essere a cavalli per buttarsi e Fantino visto che è rimasto anche se è un attimo rialzato non so se sì un attimo rialzato sicuramente ci sarà stata qualche piccola strettina però una volta il Carlo è lanciato in spazi così è difficile per me Gian Pasquale fai attenzione perché queste possono essere avversarie di Umaticaia perché Clorofilla nel Regina Elena si è piazzata terza qui ha vinto questo premio Nogara di Serres battendo un'ottima Dream come true cavalla della nuova sbarra che tu conosci l'hai vista correre appunto a Roma Gian Pasquale ecco questa Clorofilla ha testimoniato di essere una buona cavalla con questa vittoria ma non solo perché ha già il terzo posto della regina Elena sì però tanto per adesso non penso che ci dovremmo incontrare al massimo nel chiusura a Milano oppure l'anno prossimo però non si sa non si sa forse nel chiusura Marco Gasparini qui non è Stefano Botti mi dispiace per te Riccardo che sta vinto a Marco Gasparini Gasparini è il mago degli Andi che ha pieno assoluto e poi questa Clorofilla è una cavalla di grande qualità qui vince bene 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 tra l'altro gli ha trovato la corsa perfetta perché è una cavalla che ha un po' il limite attitudinale di distanza infatti nel regina Elena pagò proprio gli ultimi 100 metri qui ha trovato 1.4 in pista dritta preparata cioè era la sua corsa ha vinto benissimo è venuta su bene anche quella della nuova sbarra di Rincantru che fa seconda con un pochino più di distanza forse l'avrebbe in penseria di più con altri 100 metri ma non l'avrebbe battuta e ha dato dimostrazione del suo valore ma il top proprio il top Clorofilla l'aveva raggiunto nel Chiesa a Roma in pista dritta dove era seconda alle spalle di Bettolle ma è una cavalla che complimenti all'allenatore oltre alla qualità è riuscito a tenere la forma per circa un mese a dei livelli pazzeschi bene allora direi a questo punto riusciare la linea regia per il primo blocco pubblicitario poi riprenderemo logicamente con il galoppo straniero perché dovremmo esaminare i due derby inglese e francese e poi passeremo logicamente al trotto l'ANAC è da oltre 50 anni al fianco degli allevatori italiani per offrire completa assistenza e risolvere i loro piccoli e grandi problemi inerenti all'allevamento oggi contiamo più di 300 soci allevatori e proprietari di fattrici sul territorio nazionale il nostro staff è a vostra disposizione per ogni chiarimento necessità liedi di rispondere alle vostre domande ulteriori approfondimenti sono visibili anche sul nostro sito www.anacpurosangue.it ANAC cavalli italiani cavalli vincenti www.anacpurosangue.it www.anacpurosangue.it sicurezza valore comfort è questa la personalità che devi avere la tua casa a Roma è nato il nuovo quartiere EUR Residenza Acquacetosa Ostiense strutture antisismiche impianti d'allarme video citofono sorveglianza 24 ore su 24 collegamenti facili spazi verdi rifiniture di pregio Residenza Acquacetosa Ostiense uno standard di altissimo livello a costi contenuti convenzioni e mutui con intesa San Paolo ufficio vendite aperto tutti i giorni con orario continuato dalle 10 alle 18 e 30 Residenza Acquacetosa Ostiense Residenze con carattere Ed eccoci di nuovo insieme, seconda parte di Non Problemippica, continuiamo a parlare di galoppo perché nel weekend si sono svolti due derby importantissimi d'inglese e poi quello francese la domenica, partiamo subito dal derby inglese di Epson, la vittoria è andata a due cavalli figli di Galileo, un po' a sorpresa la vittoria di questo roller of the world, sempre O'Brien appunto come allenatore che ha fatto il botti italiano diciamo, 5 cavalli in corsa. Esatto, però sorpresa fino a un certo punto, infatti le quote prima della corsa, le quote internazionali davano da un approccio il favoritissimo di Godolph in battuto fino a questo momento a 2,40-2,50 circa, parliamo di decimali italiani. Il vincitore stava a 8 ma era il terzo cavallo del campo, cioè gli altri due di O'Brien erano i controfavoriti in sostanza, quindi sorpresa fino ad un certo punto. In realtà da un approccio, è quello listato bianco in fronte sul muso, uno, che sta tirando come un bufalo già dall'inizio, perché è un cavallo che non fa la distanza, quindi questo era il perché della quota così alta. Ha perso tantissime energie, quando qui viene chiamato rimane praticamente fermo, tant'è che è arrivato ultimo, cioè favorito a 2,40 che arriva ultimo. Il vincitore è quello con la giuba blu, sempre listato anche lui sul muso, che viene all'esterno, passa il compagno d'allenamento e viene a vincere in bello stile. Occhio al cavallo che è terzo, che è quello con le balsane bianche in giuba gialla che sta arrivando e poi farà secondo sul palo, perché questo qui è un cavallo che nel 2004 sono corti, quindi probabilmente sarà poi il favorito del San Lager. Devo dire che non ho avuto una grandissima impressione dai primi tre, tant'è che San Nichebbi, che è un cavallo che aveva corso il gruppo 1 sulla stessa distanza due corse prima, a livello cronometrico ha fatto segnare in una corsa praticamente senza andatura, perché era con pochi partenti a differenza del derby, che insomma è stata una corsa con andatura, alla fine un riscontro con un medico di un secondo e quattro decimi inferiore. Questo la dice lunga, adesso dovrà dimostrare il vincitore di valere gruppi 1 internazionali, ma penso che nello scontro con gli anziani soffrirà. Alessandro, tanto pubblico come di consueto, vediamo la regina che appunto premia e tra parentesi è stata festeggiata per il suo sessantesimo anno di appunto Regno Unito, che era lì presente, poi il giorno dopo ci sono stati festeggiamenti appunto a Londra, un galoppo inglese che noi adoriamo logicamente e invidiamo un pochino. È il galoppo, non che noi però, è il galoppo, è un galoppo che dà la soddisfazione di essere lì, ecco purtroppo noi, non è che poi gli epodromi siano veramente così vuoti, nel senso che quando in Italia va in scena un derby con 12 mila spettatori, insomma è dura trovare 5 mila spettatori a Milano per le Ux. Esatto, cioè riempiono un bel palazzetto dello sport, a tante volte ci confrontiamo con degli impianti che sono enormi ma sono stati fatti negli anni 20. È vero, è vero, Ascot ricordiamolo che è stato ricostruito nuovo e tra poco aprirà il meeting di Ascot. Poi non c'è nessuno, scusa perché se no non vorrei passare tutto per pazzo, non è che non mi sono accorto che gli epodromi sono vuoti, ma sono vuoti quando gli fai correre di giovedì, allora io penso che anche San Siro se facciamo giocare la primavera del Milan di giovedì, vediamo quanta gente ci va. Gian Pasquale Fois, un'esperienza all'estero, vedo che segui le immagini con grande passione, con grande attenzione. Sì, sì, mi piacerebbe montare diciamo all'estero, vedremo se questa cavalla mi darà anche questa opportunità. Ah bene, proprio con Omaticaia se, qualora non fosse venduta. Qualora non fosse venduta. Tu lo speri oppure in questo momento che cosa consiglieresti? Guarda, con i periodi che diciamo stanno occorrendo questa crisi, se la vende sono molto contento per Vincenzo, se avete fatto un buon lavoro e se lo merita pure. Però, a parere mio, sarei più contento se resta scuderi e proveremo a fare un'esperienza all'estero. Il segno di André Fabre per quanto riguarda il derby francese con appunto la vittoria, possono partire le immagini a Chantilly, del cavallo Intello, che vince da favorito questo, Riccardo, questo vince da favorito. E sicuramente un pensierino per l'Arc de Triomphe, forse un tre anni, che dici? No, dico proprio no. André Fabre non... No, nel senso, questi tre anni non mi sono piaciuti, non mi sono piaciuti. Considera che, come sapete, ragiono sempre su parziali, su cronometro, io impazzisco quando sento Luigi Migliaccio che dice, ah, quello ha fatto 1,58 euro e allora non può... Cioè, a me piace questo, no? Poi, magari, vengo criticato, apprezzato poi per questo mio metodo di valutazione, che però è oggettivo. Dati alla mano, il tempo fatto registrare dal vincitore è superiore allo standard time, cioè, quindi, di questa corsa del derby francese, che si disposa a Chantilly sulla pista da 2100 metri, è superiore di un secondo. Un secondo, in termini di lunghezze, sono quasi nove lunghezze. Nove lunghezze, stiamo parlando di 20 metri circa. Per cui, questo cavallo, rispetto a cavalli di ben altra levatura che hanno vinto questa corsa, è dietro 20 metri. Allora, la domanda è, visto che ha vinto, comunque, lo vedete dalle immagini, chiamato a fondo, non ha vinto come maticaia, no? Cioè, quindi, per il margine di progresso che potrà avere da qui all'Arc de Triomphe, non penso che potrà essere il crack che parte già da favorito nell'anteposto dell'Arc. E il Sannichebbi, che ti ho detto, ho visto nel meeting del derby, secondo me, al momento rimane il favorito dell'Arc. Alessandro Ferrari, che è un grosso conoscitore di genealogie, Galileo... Sono due Galileo, e il Sire, che non ha proprio a pensare... Allora, sono due Galileo, Galileo monta sui 300.000 euro, non so, l'anno prossimo... Ecco, diciamo qualche cifra. Poi, ovvio... Galileo, quanto ci vuole per una monta di Galileo? Il papà di questo cavallo, Intel. Allora, io avevo sentito dire tra i 250.000 e i 300.000, ultimamente ho sentito ripetere un po' più spesso i 300.000, e mi sa che l'anno prossimo forse sentiamo ancora di più, perché questa crisi dell'IP che è italiana, poi all'estero... Si segue da casa, a Pensa, di Varenne, no? Varenne è uno stallone straordinario, sta dando tanti prodotti... Trottatore, e monta 15.000 euro. Monta 15.000 euro. Sì, attenzione, però è diverso Trotto da Galoppo. Sì, sì, però per far capire anche... Ha visto un epilogo un po' inaspettato, però direi un epilogo che la scuderia Bello Sguardo, capitanata dal presidentissimo Cesare Meli, attendeva, perché questa Orleans OM è ritornata ai livelli suoi consoni, anche per l'aiuto di Lucio Colletti come trainer a Giuseppe Lombardo, corre sotto, una cavalla che si scatenava in testa, no? Luigi è stata trasformata in una cavalla di spunto e vince il suo settimo Gran Premio in carriera. Non ce ne sono tanti di cavalli che vincono sette Gran Premi in carriera, se non vado in radio a sette anni? Ma certamente, qui la vediamo seconda la corda dietro Novarica che ha fatto intanto la corsa di testa. C'è stata qualche, non polemica, polemica che non ce ne sono state, qualche valutazione sulla mossa di Enrico Bellei che con Mirtillo Rosso ha spostato la terza posizione alla corda per andare magari a provare di passare su Novarica, cosa che non è riuscita perché David Stefano ha deciso di correre davanti. A quel punto diciamo che il ritmo è stato estremamente veloce, ha corso molto bene il calo guidato da Roberto Vecchione a Orient Horts che poi però in finale paga e si apre l'open stretch e chiaramente chi era lì acquattato alla corda trova lo spunto mincente su una Novarica che comunque rimane ancora seconda e corre molto molto bene. Questa è una cavalla che come hai detto a te è stata in età avanzata è stata riplasmata anche dal tandem ora formato di Lucio Colletti e Beppe Lombardo perché è una cavalla che correva davanti, spesso quando andava davanti ci rimaneva, addirittura in altre occasioni si è scatenata. Invece qui è riuscita a correre sotto e i risultati si sono visti. Vediamo l'ingegnere Grassi premiare, appunto Lucio Colletti in premiazione insieme a Beppe Lombardo non era presente, presumo il dottor Meli che non vediamo in premiazione però sappiamo che ha seguito la corsa con grande enfasi insieme alla signora Mela e a quali facciamo tanti complimenti. Ricordiamo la cavalla a cinque anni, non sei come l'ho detto prima erroneamente e ci andiamo ad ascoltare proprio un'intervista molto significativa fatta al termine della corsa da parte di Giulio Luppi al driver Peppe Lombardo e a Lucio Colletti. Bene, siamo con Giuseppe Lombardo e con Lucio Colletti che collabora appunto con Giuseppe Lombardo sul materiale della Bello Sguardo. A proposito Giuseppe, non ho visto Cesare Meli che di solito è sempre presente, non c'è oggi? Non l'abbiamo visto, presumo che non ci sia, altrimenti viene sempre, a Bologna poi viene molto volentieri. Soprattutto qua in questo recito. In questo Winner's Circle, sì. Senti Giuseppe, un risultato sicuramente a sorpresa, ma cosa è successo all'attacco della prima curva tra Orleana e Novarica che era al comando? C'è stato un piccolo contatto? No, siamo un po' toccati con il Zulchi, niente di particolare, è andato tutto bene. Avete rischiato però di finire per terra? Sì, sì, abbiamo rischiato, però sai, sono quegli attimi che magari se non rischi vanifichi un po' tutto il lavoro. Chi era colpa? Nessuno, non c'è colpa. Sicuramente è mia, ma comunque non c'è colpa. Rischiavamo di vanificare il lavoro che ha fatto Lucio, buonissimo lavoro, la cavalla è in progresso, aveva già dimostrato di essere in progresso a Modena. Oggi gli è venuta una corsa molto favorevole, però dovevo dire che abbiamo fatto l'arrivo e più che altro mi abbiamo passato il palo per primi. Senti Giuseppe, quando hai visto Novarica al comando, mi tiro rosso di fuori, insomma ti sei ingolosito, no? Perché Novarica ha detto di no a Mirtillo. Tu eri secondo in corda, c'è l'open stretch. Sinceramente non me l'aspettavo, pensavo di essere via libera a Mirtillo. Poi invece a Corsa Vista ha avuto ragione lui perché ha rischiato di vincere. A noi ci è venuta bene, ripeto. Poi doveva fare 1600 metri e più che altro gli ultimi 100 metri che sono il suo tallone d'Achille l'ha fatti bene. Certo, complimenti ancora Giuseppe Lombardo. Due parole soltanto con Lucio Colletti. Direi prima vittoria, no? Come trainer di Orlean. Sì, sicuramente Lombardo ha fatto una grande guidata, la cavalla ha risposto alla grande, una cavalla nella quale crediamo per un futuro radioso. Una cavalla che sa correre bene anche sotto adesso, no? Rispetto ai tempi giovanili. Abbiamo in comune accordo con il proprietario cercato di cambiare le attitudini. Io ho collaborato da un po' di tempo per cercare di migliorare questa attitudine. Una grande guidata, grande cavalla, tutti contenti. Benissimo, grazie ancora Lucio Colletti e Giuseppe Lombardo. Bene, il trotto nazionale è fermo in questo weekend, non ci saranno gran premi e quindi si è trasferito la maggior parte dei trottatori indigeni in Danimarca dove domenica ci sarà la Copenhagen Cup. Ben 14 indigeni al via, tra parentesi c'è la notizia di quest'oggi che anche un altro catch driver bravissimo come Roberto Vecchione sta trasferendosi in Finlandia per poter avere possibilità di correre in altri paesi perché qui non trova una situazione ideale, non diciamo la situazione dei soldi perché ripeterei sempre le stesse cose. E quindi Luigi un impegno dei trottatori indigeni in Danimarca dove Orzia che parteciperà nella Copenaghen Cup, il gruppo 1 internazionale, potrà correre anche da protagonista direi. Beh, sai, Orzia è anzitutto importante capire come sta perché chiaramente gli impegni recenti sono abbastanza dilatati nel tempo, però è una cavalla che è sicuramente importante, è una cavalla che non ha problemi di schema, anzi lei correrebbe meglio se riuscisse a correre da seconda sotto e a quel punto potrebbe essere veramente... Abbiamo anche la grafica della Copenaghen Cup con la sua messa in onda e vediamo saranno in dieci al via Luigi, logicamente Commander Crown sarà il cavallo da battere anche se nelle ultime corse non ha avuto piazzamenti di rilievo però... Il miglior Commander Crown sicuramente sarebbe il cavallo da battere, questo bisogna vederlo perché insomma è stato ritirato, poi ha corso in Svezia e si pensava dovesse essere ritirato, invece pare che i proprietari abbiano, siccome sono in parte svedesi, abbiano voluto correre per forza. Bisogna capire un po' come è la situazione. Attenzione che ha corso molto molto bene, è stato Jockface e avendo anche una guida diversa dal solito io ci sarei un pochino attento perché può essere veramente il cavallo che può sparigliare. Un'ultima indicazione, volevo dire appunto che Alessandro Luciadoro, contattato telefonicamente per le interviste settimanali che proponiamo sul canale Unire TV, parlando proprio con me per Commander Crown, ha detto che l'ha visto correre alla grande all'ultima uscita, il cavallo anche se non è riuscito a piazzarsi perché ha avuto una corsa un po' complicata e secondo lui è il cavallo da battere, da anticipare ha detto proprio perché partirà un pochino più piano, tenterà di fare un po' di partenza con Orsia per cercare di anticipare le mosse di Commander Crown. Io dico che se per assurdo riuscisse ad andare dietro a Jockface sarebbe la posizione migliore del mondo. Benissimo, allora a questo punto io scelto di nuovo la linea della nostra regia per riprendere tra breve il gran finale perché presenteremo il Gran Premio Milano che si svolgerà domenica a San Siro, è una giornata eccezionale che si preannuncia molto emozionante. Se non sei ancora andato sul nuovo sito vendopuletri.it non sai cosa è successo. Grazie a una grafica rivoluzionaria puoi gratuitamente vedere le ultime quattro prestazioni di ciascun partente di ogni corsa in una sola schermata ma anche aggiornato in diretta sui risultati o interrogare l'anagrafica di ciascun cavallo visionando le corse sostenute. Il nuovo vendopuletri.it ti racconta in anteprima i Gran Premi con le interviste ai protagonisti di Liliana Pennati, ti racconta le storie grandi storie dei campioni, del passato e la politica di oggi e come ogni anno ti propone i migliori yearling in vendita, sono già online le T, cavalli in training e le ultime S disponibili. Se sei un allevatore ti diciamo tutto su Exploit CAF, Equinox B, Nalda Shiba, Macho Gams, Las de Bussier e le Toquet e ti offriamo fattrici a prezzi che non immagini. Vendopuletri.it è la tua passione hippica come non l'hai mai cliccata. Vuoi assicurare e tutelare la tua grande passione? Il cavallo? Villa & Partners fa per te, offrendovi assicurazioni specifiche per il tuo bene prezioso. La copertura è possibile per tutte le discipline, trotto, galoppo, corsi ad ostacoli, concorso hippico e per soggetti di tutte le fasce d'età. Uleder Poles e yearling, cavalli corta, stalloni e fattrici. Tutte le garanzie assicurative per il vostro cavallo. Villa & Partners, la sicurezza per l'amico di una vita. Nadal Shiba è lo stallone già scelto da oltre 400 allevatori in tre anni di attività. Entrata in rassa nel 2010, Nadal Shiba realizzò il record del mondo 1-12-1-3 anni, vincendo il Gran Premio Nazionale per distacco abissale e lo mantiene ancora detto. L'ultima curva non mi sembrava vero, però quando ho guardato il cronometro sinceramente pensavo che avesse le piede scariche se fosse fermato prima. Continuatore di Winston Legacy e Conaway Hall, la linea di sangue più emergente a livello mondiale, Nadal Shiba nel 2013 funziona presso l'Istituto Fecondazione Artificiale di Candriano, Granarolo, Emilia, Bologna, professor Gaetano Mari. Nadal Shiba, genealogia, carriera, completezza, perché non dovrebbe essere la scelta per la tua fattrice nel 2013. Binocoli puntati su San Siro per quanto riguarda la domenica milanese dove ci sarà il Gran Premio Milano, tradizionale gruppo 1, noi abbiamo anche un po' di immagini di colore e insieme a queste immagini iniziamo a parlare insieme ad Antonio, scusami, ad Alessandro Ferrario perché ha fatto anche un libro su questo Gran Premio. Sì, editato da Mario Calori, edizione 5vie, che è un socio sire, un appassionato di vaglia e ho scoperto tante cose. Andiamo subito al centro della questione. Allora, è dai metà anni 80, dai tempi di Tommy Way, che un tre anni non vince il Milano. Dura che la vincesse anche perché sono in pochi che ci hanno provato. Io non so adesso per Beats of the North, in passato capitava più spesso che tre anni vincesse il Milano, però avevano un maggiore vantaggio di peso. Questo sì. Ricordiamo anche la monta di Cristian De Muro, per quanto riguarda il derby winner 2013. Avevano maggior vantaggio di peso in passato, però avevano anche da affrontare i 3000 metri, perché è cambiato mi sembra negli anni 60, è stato portato 2 a 4. Staremo a vedere come se la giocano. È stata una sfida molto, molto sportiva. Tante iniziative collaterali inserite all'interno del Gran Premio Milano. Qui vediamo, siamo moderato anche la Relavi de Horses che ha fatto uno spettacolo. Ci sono, ecco, questi sono i Quarter Horses con i bambini. Sì, allora organizzati da Ferruccio Badi, che è un caro amico. Esatto, Ferruccio Badi, come nostro amico carissimo, anche alla trasmissione. Ha organizzato Roma Cavalli per diversi anni e a Fiera Cavalli abbiamo collaborato con lui. E ti dico anche una cosa, è stato uno dei primi sponsor di No Problemifica, quindi Ferruccio Badi è un grande appassionato con la sua azienda. Sponsor anche di Vendo Puledri, di aiutare. Lo salutiamo con piacere. Ciao Ferruccio. Ma tornando all'aspetto tecnico, qui coinvolgerei Riccardo Santo Liquido, che è un po' titubante sul derby winner 2013 che va ad affrontare gli anziani in questo Gran Premio Milano. Allora, la mossa a livello di marketing da parte dei proprietari di Business and Arts è corretta. Avendo vinto il derby penso che abbiano avuto delle offerte per il cavallo dopo il derby. Penso, anche perché adesso i cavalli buoni in Italia, quelli che vincono le corse importanti, vista la crisi che c'è, ci sono da fuori molte offerte perché sanno che comprano magari a meno del reale valore del cavallo. Farlo correre contro gli anziani, questi anziani, che non sono eccezionali, con evidenti chance di successo, se effettivamente vincese Business and Arts acquisterebbe ancor più valore. Quindi invece di venderlo, non so, a 10 dopo il derby, potrebbero venderlo a 20 dopo il Milano. Il problema è vincerà? La domanda però è particolare, come dicevo prima, perché? Perché secondo me il cavallo che potrebbe batterlo è Romantic Wave. Non anticipare i tempi perché abbiamo anche un'intervista proprio a Stefano Botti per quanto riguarda Romantic Wave, ma prima di ascoltarla sentiamo un attimino cosa pensa Gian Paolo Pasquale Foise per quanto riguarda l'impegno del derby winner appunto nel Milano. Un tre anni con gli anziani e da tanti anni, come ha detto appunto Alessandro Ferrario, che è un tre anni si confronta e non vinca, è un gran premio Milano. Che ne pensi tu, Gian Pasquale? Ma io penso che per come ha vinto il debito il cavallo anche io chiederei questa possibilità di provare a fare il gruppo una Milano. Tu l'hai visto spesso e volentieri perché era le capannelle questo cavallo prima di essere trasferito dai botti, quindi lo conosci anche la mattina nel suo lavoro. È un bellissimo cavallo e penso che per me ci abbia anche una buona chance di correre bene al gruppo una Milano. Tra parentesi merita la scuderia Leali, il proprietario Massimo Greco che appunto è un grande appassionato dei cavalli e proprio l'ho sentito alle capannelle, l'ho vista alle capannelle martedì era proprio fibrillava come si vuol dire per questo impegno. Però ti dico... Prima di ascoltare le interviste, dimmi Riccardo. Io sono perplesso solamente perché andrebbe fatta una legge di conflitto di interessi pure sull'Ippica, cioè che Stefano Botti ha su nove cavalli rimasti quattro partenti, di cui tre fanno scuderia con la FV e uno è Bisdenars. Allora, io al posto suo sarei in difficoltà. Andiamoci ad ascoltare l'intervista proprio di Stefano Botti riguardante a Romantic Wave. Abbiamo visto un lavoro di Romantic Wave questa mattina, in fila indiana, ben intervallati l'uno dall'altro, per questo lavoro che come fai a capire lo stato di forma di ciascun cavallo? Vabbè, io li seguo sempre molto alla sera con il caporale, la dottoressa e seguiamo già la condizione alla sera, ci mettiamo lì, li guardiamo e tutto quanto. Al mattino, sicuramente il lavoro di stamattina non è che mi doveva far vedere quanto va forte o quanto va piano. Ecco, stamattina doveva solo fare un lavoro da sgranchirsi le gambe, a corso domenica, ha fatto dei giorni di relax, solo di passo e trotto e stamattina ha fatto un canter tranquillo. Ebbene, fiducioso Stefano Botti, ringraziamo la redazione Toscana per questa intervista effettuata proprio nel centro di allenamento di Stefano Botti-Cenaia. Ascoltiamoci anche Bruno Grizzetti, che Luca Calbiati è andato ad intervistare proprio a San Siro e poi tiriamo le somme per quanto riguarda questo Gran Premio Milano che si svolgerà domenica all'ippodromo milanese. Bruno, domenica c'è il Milano, tu presenti una coppia, Frankenstein e Bolleva. Su Frankenstein, prima di fare il cavallo, forse addirittura viene lui, Roberto Cavallo. Ma non si sa mai, è un uomo molto impegnato, non so se Tommaso o Roberto vengono in questa occasione, comunque speriamo. La sua presenza ha sempre un gusto incredibile. Ma sì, sicuramente loro sono persone importanti e quando vengono nel nostro ambiente colorano sicuramente l'ippodromo. Il cavallo comunque è in crescita? Sì, il cavallo è un cavallo, più che in crescita è un cavallo abbastanza costante, è un cavallo che probabilmente non vale un gruppo 1, però tutte le corse di gruppo 3, 2 o 1 si comporta sempre bene, insomma è un cavallo che sa quello che deve fare in ogni occasione, mentre Bolleva è un cavallo che anche lui sale un po' di categoria perché obiettivamente i gruppi 1 sono un po' al di sopra, però stanno in un'ottima condizione, perciò affrontiamo questo Milano con tanto entusiasmo e poche chance di vincerlo, però ci siamo e siamo contenti di esserci. Ebbene abbiamo ascoltato anche Bruno Grizzetti, grande manager di proprietà, ricordiamo la vendita a un gruppo cinese di Farina Yef al termine del derby e qui abbiamo Alessandro Ferrario che ha collaborato con Bruno Grizzetti per tanti anni, io penso guarda, credimi, lui forse è nato in un periodo diciamo diverso dall'ippica che abbiamo vissuto, bellissima Bruno Grizzetti perché se era presente forse vent'anni fa Bruno Grizzetti poteva diventare un nuovo tesico perché, a prescindere dalla bravura dell'allenatore, ma è un manager straordinario, sì. Nel senso perché ha dato il cavallo al cinese? No, perché è un grande comunicatore, è un grande personaggio oltre che un bravo allenatore perché poi ricordiamo anche i risultati che fa, sono risultati ottimi, è una persona che dà immagini alla nostra ippica. Ecco, ci tengo. Lui è una persona che ha capito che il ruolo dell'ippico oggi non può essere solo un ruolo tecnico ma deve essere un ruolo a tutto tondo. E questo fa e questo segue da questo tra i risultati. Io mi ricordo, quest'anno l'ho visto il derby, io non sapevo niente della storia dei cinesi, arriva, ho visto che ha aperto un pulmino, hai cominciato a scaricare i cinesi, ma tutto spiano, sembrava il vanno della corsa attrice. Cioè, è un uomo che gestisce la scuderia da imprenditore. Gian Pasquale Foix, tu l'hai visto Bruno Grizzetti nel corso degli anni, come lo cataloghi un allenatore? No, ci sono stato anche un mesetto e mezzo a lavorare a Milano con lui, ho reputo un grandissimo allenatore, anche perché i risultati parlano. E poi è un manager, uno che, ripeto, è un allenatore anche di proprietari. Sì, sì, quello sì. Ripeto, ho reputo un grandissimo allenatore, io ho provato ad andare a Milano, però non mi piaceva proprio l'ambiente di Milano e sono tornato a Roma. Bene, hai avuto un'esperienza con Bruno. Allora, vent'anni fa, allenatore di proprietari era denigratorio, oggi penso non lo debba più essere. È vero. Cioè, vent'anni fa si riteneva, ah, io devo allenare solo il cavallo, ma non è più così nessuno sport. È vero. Ecco, in questo Bruno ci ha visto tutto. Io ho fatto il paragone, perché lui ha delle idee innovative e ha già capito il momento che stiamo attraversando, come bisogna affrontarlo, anche con le dovute difficoltà, perché io ho parlato con lui il giorno del derby, sì, era soddisfatto per la vendita, ma le difficoltà sono notevoli per andare avanti, anche per dei grossi calibri come Bruno Grizzetti. Quindi, chiudiamo il cerchio e qui c'è il pronostico di Riccardo Santoliquido che deve un po' riuscire a capire quello che accadrà nella tattica della corsa. Sì, del Milano. Sì. Cioè, io chiudo con un interrogativo questa volta. Wild Wolf, Orpello, Romantic Wave, FV, tutti e tre scudelli FV, saranno partenti tutte e tre forse, tre cavalli di testa. Beast the Nars, cavallo che corre venendo da dietro, tutti e quattro allenati dallo stesso allenatore e, secondo me, hanno una chance tutti e quattro. Quelli con più chance sono Romantic Wave e Beast the Nars. Non so immaginare, però, quale sarà la tattica di corsa per abbandaggiare chi o se effettivamente tutti e quattro saranno liberi di correre con le proprie chance. In questo senso, me la guardo, non la scommetto. È l'O'Brien del nostro galoppo, Stefano Botti, e io penso che possa fare come ha detto O'Brien, che ha dato possibilità a tutti i cavalli nel derby di Epson di correre e quindi poi ha vinto il Ruler of the World. Allora, Luigi Migliaccio, andiamo in conclusione. Il trotto, abbiamo detto, italiano si trasferirà in Danimarca per gli impegni esteri, ma per quanto riguarda invece gli impegni politici in settimana ci saranno incontri, no? Saranno ricevuti anche l'ippodro che abbiamo letto. Sì, sì, ma volevo anche dire che sabato non solo Danimarca, ma anche Svezia, a Örsterstund, dove correrà di nuovo Marlon Oem dopo il fallimento nella Sweden Cup e ci sarà Torbio in Jansson in Sediola, anziché Pietro Gubelino. Settimana di appuntamenti vedremo quello che accadrà, anche perché per il 10 si era minacciata una serrata. A questo punto vedremo un po' quello che avranno da dire le istituzioni agli ipodromi e alle altre categorie produttive dell'Ipid. Bene, inizio con te e con i saluti, grazie Luigi della tua collaborazione, ti rivedremo logicamente sui canali TV, grazie a Riccardo Santoliquido che rivedremo sulla dritta.it, grazie, logicamente con i suoi pronostici, non solo dell'Ipiga, di tutti gli sport, un ringraziamento particolare va a Gian Pasquale Foise, un grosso in bocca al lupo, Gian Pasquale, il sogno del cassetto? Montare all'estero, vince qualche corsa di gruppo all'estero. Di gruppo all'estero, grazie di essere qui con noi, però per il momento rimani ancora in Italia. Per ora sì. Bene, è un ringraziamento a Alessandro Ferrari che voleva fare una precisazione sul Milano. No, quello che dico, il fatto che ci siano così tanti cavalli dei botti, o se preferiamo di solo un allenatore o due, è l'esempio più lampante della crisi, lo tocchiamo, dall'estero non vengono più, perché se è difficile per noi capire perché non pagano i premi, figurati per quelli che stanno dall'altra parte, e qui ci stiamo un po' chiudendo un'autoreferenzialità che possiamo forse supportarla quest'anno, se no c'è la retina. Grazie Alessandro, buon ritorno a Milano, un ringraziamento particolare va alla regia di Tele Ipica e a tutti voi che ci avete seguito da casa, logicamente potrete seguire la nostra trasmissione sul sito Youtube www.noproblemipica.it e come sempre con Noproblemipica sei sempre a cavallo. Ci vediamo la settimana prossima, buonanotte. Grazie. Grazie a tutti.